Io sono Nicolò Beretta, nasco a Milano 19 anni fa. Questa è la mia terza collezione e il mio marchio si chiama Giannico. La mia idea è quella di far sentire una donna più giovane, quella di creare degli oggetti ludici, divertenti, che facciano sentire una donna felice dai 18 ai 100 anni. La produzione è tutta made in Italy, il 100% made in Italy, la produciamo a Parabiago. Anche questa collezione che ha dei dettagli di gomma, di plastica profumata, che sono molto particolari, anche loro sono tutti made in Italy. Sono fatti a Brescia da questa azienda che produce anche per Audi, per BMW, quindi altissima qualità, tutto a italiano. Questa collezione è ispirata ad una donna molto giovane, molto delicata, innocente, ma allo stesso tempo sexy, e maliziosa. Una donna che vuole giocare con le scarpe e che vuole sentirsi giovane e divertente. Il motivo delle labbra, che è un motivo che porto avanti da qualche stagione, che sta diventando un po' un mio must, l'ho sviluppato tutta su quest'idea di queste bocche sbavate. Abbiamo fatto anche un'installazione qua, firmata da Roberto Bertazzon, su questo tema. Tutti i colletti sulle scarpe, come le uniforme scolastici delle bambine. Il tema Vichy, tutto il taftà di seta stampato Vichy, e poi questi sottopiedi goffrati in velluto, che rendono la scarpa molto più comoda. Questo tacco che, a seconda del movimento, riflette la luce in punti diversi, è un altro riferimento all'arte, perché io comunque prendo sempre referenze dal mondo dell'arte, per esempio una mia scarpa dietro una sfera rosa ispirata a Jeff Koons, piuttosto che una scarpa in vernice gialla e raso nero ispirata a Picasso. Ho creato questa parte della collezione un po' più contemporary. In questo tessuto gommato, praticamente sono quasi delle calze, più che delle scarpe, che possono essere tagliate a seconda della misura che uno desidera. Quindi possono essere quasi inguinali, come dei guissardo, possono essere corti fino alla caviglia. Grazie a tutti.